500 grammi, scontato, del 23% a soli 1,95 euro, provite! E niente. Vado i nomi. Assunden. Mercoledì, metto così, guarda, no, così. Oggi è mercoledì 22 gennaio, inizia qui oggi la mia settimana, ma perché semplicemente lunedì ero in ferie, ero dai miei futuri suoceri in Liguria, a Genova più precisamente, e quindi ho preso, avendo fatto il weekend, mi sono preso anche lunedì insieme a Irene per stare appunto a Genova. Ieri ho avuto un corso per il lavoro, quindi ovviamente non è come iniziare la settimana, avrei potuto registrare da ieri, ma non me la sono sentita ancora un po', mi vergogno sinceramente a riprendere appunto in pubblico. Quindi inizia ufficialmente oggi la nostra settimana, la mia settimana, è bello fare iniziare la settimana di mercoledì. Comunque, metterò forse una clip che ho registrato lunedì, che abbiamo fatto un giro all'IKEA, ma sono due clip proprio inutili e basta. Niente, ora andiamo al lavoro e magari se riesco registrerò durante la giornata qualche cosa, magari una spesa piuttosto che qualcos'altro, intanto con questa luce veramente sembro Gesù. Siamo qui, VDV Garage, Twingo, dice Johnny. Ciao. Qui c'è l'altro project, che tra l'altro sono appena contentissimo perché si è mossa, incredibilmente. È partita. Dopo, questo è stato, è passato un'ora. Siamo riusciti a togliere qualche delle valvole, che è abbastanza complicato. Anzi, lo sta per togliere. Ciao, lo togliamo o... Sono le sette, alle sette voglio andare a casa, eh. Tra l'altro no? Devo capire perché non si può. Ci vuole l'aiuto di vino. E sono io. C'è sempre qualcosa che non vuole. Oggi è mercoledì e siamo al lavoro, stiamo chiudendo e sono arrivate delle cose per casa. Adesso, le faccio vedere. Sono le siti per la sala, per la cucina. Ma le apro? Eh, sì. C'è, vi portate dentro la macchina. Venite con me. Andiamo. Sto portando dentro la macchina. E così carichiamo le sedie in... Madonna. Ok. Carichiamo le sedie. Intanto... Zacc. Carico le sedie in macchina. C'è anche la scrivania. C'è anche la scrivania che dovrò montare in sala. E facciamo tutto... Niente, faccio vedere io che impunto. Non so se stasera o un altro giorno. Ah, un'altra cosa che non mi ho fatto vedere. Ho cambiato macchina. Ma ve la presenterò a tempo debito. E intanto switcho. Il cancello dietro l'ho già chiuso. Switcho da... Madonna mia. Che luce. Switcherò un po' tra la Canon, appunto, e la DJI Osmo. Proprio perché, intanto... Così almeno mi si vede. Proprio perché è comodo con entrambe. Adesso sto registrando con la Canon. Poi registrerò con la DJI. Dipende da... Da cosa devo fare. Dove sono. Adesso, per esempio, non sono in pubblico. Quindi, ovviamente, registro con la Canon. Per me a mano. Anziché una macchina sportiva, ho preso un SUV. Non me ne sono pentito per niente. Qui c'è la scrivania. Adesso vado a prendere le sedie, le apro e le carichiamo sfuse in macchina. Eccolo lui, è il Johnny. Ma come cazzo sei gonciato? Ma non ti vergogni? E allora... Da posto. E' rato giù alle 5. Perché oggi siamo andati a Genova. Oggi siamo andati a Genova. Per sistemare un paio di cose per il matrimonio, dalla location. Non ho ripreso nulla perché non ne ho avuto la possibilità. E basta. Così ero proprio non è di mentale. Le stazioni e i pezzi di montaggio. Bravo, chiudi! Oggi è giovedì ed è giorno di spazzatura. Via Vimodrone. E adesso andiamo a prendere i pezzi sotto delle sedie e spostare la macchina perché il giovedì è giorno anche di lavaggio strade qui. Tutta questa via lavano le strade per la spazzatrice e quindi bisogna spostare le vetture. Sennò, bella voce, danno la multa. Sono un paio di giorni che ci sono queste bellissime giornate. Siamo al 20 di febbraio, minchia, è già volato un mese. Ci sono 4 gradi. Sento un leggero pizzicorino alla gola. Adesso spostiamo la macchina praticamente lì dietro, quella via lì dove non c'è lavaggio strade e niente, ci vediamo con le sedie su. Tiè, beccatevi questa vegetazione, questa luce. Va, va che roba. Guarda qua. Va che robetta, va. Ecco, perseguendo tutta questa strada arrivo al lavoro. Mentre di là, verso di qua, seguendo tutta questa strada arrivi a Milano Navigli. E bello, interessante. Spero sia interessante per voi. Ecco tutte capputtate. Queste sono sedi e scrivania, di cui una sedia andrà davanti alla scrivania. La scrivania la monteremo sabato. Mentre adesso portiamo via le sedie. Non vi faccio vedere mentre le porto bianche perché sarebbe impossibile tenerla. E però vi faccio vedere quando le monto. Questa. Questa. Oddio che mi ha rispaccato. Va bene. Sì, sì, sì. Grazie. La chirurgia. Scusa. No, no, non ti devi abbassare un guadro. Faccio come i bambini. Questa è... È tipo... È molto buono, eh? È tipo rigida la crema. È molto buono. È molto buono. È un uomo che mi piace. Vabbè, fai. È una buona partenza. È quella parte che vieni. No, no, no. È un uomo che mi piace. È un uomo che mi piace. È un uomo che mi piace. Che tu hai avuto il calcolo. abbiamo finito di montare la scrivania e le sedie vabbè le sedie le ho montate in settimana questo è il risultato ovviamente qui mettono solo il computer e altre cose adesso faccio una panoramica e adesso questa è la scrivania il Mac Irene canta è un bel angolino devo implementarlo un po' con un paio di cosette io l'ho presa la corrente che poi attaccherò il Mac e una lampada che metterò esattamente qui questo è l'ormaglio del bancone devo cercare se ci sono dei tasselli per fissare tasselli, tasselli no Irene non ce l'ho i tasselli aspetta no, non ne ho abbastanza volevamo fissare delle mensole al muro e più precisamente un mensolino piccolino che avevamo preso in color bambù in sala e degli attaccapanni in camera e il Dyson in camera la station del Dyson solo che non ho i da sempre quindi un lavoro rimandato anche questo oggi è domenica non so che giorno sia 23 febbraio era giusto un piccolo ragionamento anche per concludere questo vlog sono qui tra l'altro sulla mia scrivania nuova e sono contento dell'acquisto l'ho presa su Amazon pagata 59 euro e magari se vi interessa a qualcuno non penso ci sia nessuno che guardi questi video in ogni caso basta che mi chiedete vi linko appunto la scrivania su Amazon e coronavirus permettendo ci vediamo a un prossimo video grazie a tutti